Una corretta alimentazione ed uno stile di vita adeguato sono fondamentali per la prevenzione oncologica. Il rapporto tra nutrizione e cancro sarà il tema del convegno internazionale che si svolgerà a Napoli tra il 21 e il 24 maggio col patrocinio del Comune. Secondo i più recenti studi il 30% dei tumori è correlato direttamente o indirettamente alla dieta e scienziati da tutto il mondo si confronteranno sulle nuove frontiere della ricerca oncologica anticipando le linee guida per una corretta alimentazione. I lavori si apriranno il 21 maggio alle 15 e 30 presso l'aula magna della Federico II in via Partenope con una conferenza del professor Riboli, direttore della School of Public Health di Londra e autore del progetto EPIC, uno dei più noti studi epidemiologici sul rapporto tra alimentazione e cancro che ha coinvolto più di 500.000 persone in 10 nazioni. Il convegno si concluderà presso il centro Crom di Mercogliano con una giornata interamente dedicata agli effetti benefici sulla salute dell'olio extravergine di oliva. Si svolgeranno dal 18 al 20 maggio presso la piscina Scandone in Viale Giochi del Mediterraneo i 44esimi campionati italiani di nuoto Master UISP organizzata dalla Lega Nazionale Nuoto UISP col patrocinio dell'assessorato allo sport del Comune di Napoli. Benvenga questo evento che ha anche il valore di diffondere la cultura dello sport e del nuoto in particolare come sport armonico e armonioso per una corretta crescita. 44 anni è la prima volta che la UISP viene a Napoli per i campionati italiani Master. Abbiamo circa 3.000 iscritti alle gare, sono quindi 1.200 circa atleti che scenderanno in vasca in tre giorni alla Scandone. È un evento eccezionale, è un evento dello sport per tutti, nuotano tutti, nuotano dai neofiti agli ex campioni. Molti, moltissimi, pensiamo circa 300 persone, 300, 350 persone vengono da altre regioni d'Italia, quindi è anche un momento per riscoprire lo sport per tutti, ma per riscoprire la nostra bellissima città attraverso lo sport. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.wisp.it slash nuoto. È stato istituito il registro cittadino delle associazioni giovanili. Si tratta di un importante strumento di azione per i giovani e per l'amministrazione, ha spiegato l'assessore Tommaselli. Lo scopo è quello di rendere operativi i progetti dei giovani ed aprire un dialogo tra l'istituzione e i tantissimi ragazzi che vogliono partecipare attivamente alla realizzazione delle politiche giovanili cittadine. L'avviso pubblico insieme al modello di iscrizione è scaricabile